Sindaco, continuano gli incontri del Sindaco Ascolta con i cittadini, oggi è la volta del quartiere Forcellini. Cittadini sono preoccupati soprattutto per la grande antenna radiofonica, si può fare qualcosa? Noi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, ci abbiamo interessato Interporto che ha messo in disponibilità gratuitamente un'area all'interno di Interporto, quindi in una zona dove non ci sono abitazioni. Però, che sia chiaro, abbiamo a che fare con privati e la normativa sulle antenne è una normativa che ha praticamente liberalizzato, cioè nel senso che i comuni non riescono a intervenire in queste questioni. Peraltro il terreno è stato dato dalla SPES, i cui organi non sono stati certamente nominati dal Sindaco Bitonci, ma da altri in precedenza e quindi io certamente mai avrei dato un terreno per fare un'opera, un'antenna di quel tipo. Siamo riusciti in un'altra zona a evitare l'insediamento in via Isonzo facendo un parchetto pubblico. Dove possiamo? Lo facciamo, c'era anche bisogno di un parco, quindi l'abbiamo fatto, abbiamo sentito che qualcuno voleva metterci un'antenna, quindi abbiamo risolto il problema in anticipo. In un caso del genere, ormai il lavoro fatto credo che sia abbastanza difficile, a meno che la proprietà non accetti la proposta del Comune e dell'Interporto, che è quello da spostamento dell'antenna. Certamente il Comune non può sobbarcarsi le spese e gli oneri per un spostamento di questo tipo. Quello che farà il Comune sarà ovviamente sempre monitoraggio, cioè questo l'abbiamo chiesto, quindi ci sarà il controllo continuo delle emissioni dell'antenna e questo per salvaguardare tutti quelli che abitano là intorno. In realtà è proprio in centro una zona verde, dispiace certamente, ma il problema è ovviamente un tema nazionale, è un tema legato a chi ha voluto liberalizzare una normativa di questo tipo. Io non l'avrei mai fatto e a Padova se possiamo, se possiamo farlo mediante opere pubbliche, se possiamo farlo in altri modi, blocchiamo questi tipi di antenne.